Sono stati premiati nella sala giunta del Comune dall'assessore allo sport Ciro Borriello i giocatori della squadra di football americano Napoli ATT Uers che hanno vinto il campionato nazionale Seven League Tackle. La squadra è stata accompagnata dal presidente Nicola Salvi, dal general manager Giorgio Tirone e dal coach Renato Trionfo. Il primo titolo a squadra che arriva a Napoli è uno sport particolarissimo, il football americano è una cosa bella, una novità per la città e la società che ha un'antichissima tradizione è tra quelle che riesce a far fare e a far praticare questo sport in questa città. Non è poco arrivare a un titolo in quelle condizioni, spostarsi con tutti i sacrifici che fanno questi ragazzi, i genitori, soprattutto tutto l'immanagement sportivo della squadra. Insomma vanno ringraziati e oggi è stata una bella giornata poterli ospitare da noi qui a Palazzo San Giacomo.